Le parole del necromante turbarono molte al santuario. Chi l'aveva avvertito? Forse non era una coincidenza che non molto tempo dopo l'uditrice scegliesse di visitare Falkreath. L'eroe poteva guadagnare la sua fiducia e scoprire dove lei e la Madre Notte risiedevano. Salute. Devo assegnarti un incarico spiacevole. Riteniamo che tra di noi ci sia un traditore e tu sei solo a non essere sospettato, visto che hai ucciso Rathir. In tempi più rosei avremmo epurato l'intero santuario. Ma dopo la distruzione di Wayrest, siamo rimasti in pochi. Ho detto ai confratelli che li aiuterai con i loro contratti. Scopri chi è il traditore e mettilo a tacere. Per sempre. Per sempre. Ok, ok. 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 Ok, ok.